Buongiorno Daedo, oggi per voi ho un paio di news sulle cripto che secondo me sono sempre frizzantine, vanno ascoltate e poi qualche update sulla cyber security. Naturalmente la mia opinione sulle cripto è abbastanza nota, ogni tanto quando posso insomma ve la racconto e ogni volta, siccome cerco di non partire con pregiudizi, quando ci sono news sulle cripto cerco un attimo di fare un po' un recap mentale per capire se le criptovalute in qualche modo hanno portato del valore all'umanità, ma alcune, vedersi qualcuna delle promesse iniziali sono state poi rispettate. Devo ammettere però di non trovare assolutamente nessuna cosa positiva al momento in questo scenario. Sicuramente chi ha investito forte anni fa oggi si ritrova con portafogli gonfi e la classica casa a Dubai, che per qualche motivo è il target di chi ha investito in cripto, però al di là della speculazione appunto altri usi non se ne vedono. Certo, gli altri usi sono tutti nella sfera dell'illegalità, quindi nascondere soldi al fisco, allo Stato, alle forze dell'ordine, ransomware, scam vari, queste sono tutte attività grandemente documentate, collegate al mondo cripto. Nella sfera invece della legalità ben poche cose, non ci sono ad oggi grandi piattaforme che consentono di pagare e ricevere pagamenti in cripto e comunque con la volatilità di questi valori è anche difficile pensare che possano diventare un modo standard per pagare i servizi online o addirittura offline, che praticamente non esiste. Oltre naturalmente al problema dell'impatto energetico che hanno gli algoritmi di Proof of Work, senza contare poi l'inutile carico cognitivo sulla UX degli utenti quando devono collegare dei portafogli e fare delle operazioni che in realtà con i sistemi tradizionali, chiamiamo così, o comunque sistemi alternativi di pagamento che sono nati in questi anni online, sono estremamente più semplici che non appunto tutto il discorso cripto. Per cui, rifacendo un po' un recap, speculazione, nascondere soldi, scam, ransomware, mi dimentico qualcosa? Queste sono un po' le utilità delle cripto. Comunque, se voi volete investire, sapete che potete farlo in ogni momento con, per esempio, degli exchange, che sono i protagonisti della puntata di oggi, che adesso andiamo a vedere. Ah, prima di cominciare una notte di servizio, Open Source Day a Firenze ha pubblicato proprio stamattina la lista dei talk che ha superato la prima selezione. Ora, per farli superare la seconda e quindi andare sul palco di Open Source Day a Firenze a marzo, occorre un'azione del pubblico. Bisogna andare a votare i talk. Quindi vi chiedo una piccola mano, andate a votare il mio talk, per favore, sul repo GitHub di Schrödinger at OS Day, Open Source Day. Trovate WebAssembly, The Next Frontier of Cloud Computing, ma potete anche cercare il mio nome nell'elenco delle issue. Comunque, il link a questo talk ve lo lascio nella descrizione dell'episodio. Basta per votare mettere un pollicione, un pollicino in su alle issue, come quello che vedete qua. Eccolo qua. Quindi votate, fate innalzare questi voti, così poi anch'io potrò salire sul palco di Open Source Day a Firenze. E questo è un uso privato di piattaforma pubblica. Dai, grazie se mi votate, vi ringrazio molto. Allora, oggi è il primo febbraio, quindi entriamo in febbraio con frizzantezza. Vorrei partire con qualcosa di leggerino, non leggero perché ha perso soldi, però insomma cerchiamo di riderci su, cosa possiamo fare. C'è un attore che è stato pagato per far finta di essere il CEO di un crypto exchange, che si chiama Hyperverse. È stato scoperto, questo piano malefico, da uno youtuber. Uno youtuber era smascherato perché ha scoperto che questo fondamentalmente era un attore che poi aveva fatto altre cose. E questo è un uomo inglese che vive in Thailandia, si chiama Stephen Harrison, e poi ha confermato tutto al Guardian. Ha confermato di essere stato pagato da Hyperverse, questo crypto exchange, per far finta di essere il suo CEO Stephen Reese Lewis. E poi ha detto di essere estremamente dispiaciuto che quelli che hanno investito con Hyperverse hanno poi perso circa 1,3 miliardi di dollari nei loro investimenti, perché tutto questo poi alla fine era uno scam. Lui ha detto che non ne sapeva niente, ovviamente gli dispiace di essere stato il frontman di questa campagna, insomma, che ha portato alla perdita di denaro, e si sente molto in colpa per questo, però lui dice di non c'entrare niente, non sapeva di questo, non è stato pagato con percentuali di questo mega scam, è stato pagato con 7500 dollari nel corso di nove mesi, ecco, per fare finta di essere il CEO di Hyperverse. Poi, se volete approfondire su Ars Tecnica, trovate tutta l'investigazione dello youtuber, poi di Guardian e altre dichiarazioni dello stesso falso CEO, però io volevo invece iniziare un pochino più in frizzantezza, in leggerezza, per parlare di cripto, però partendo da qualcosa di frizzantino. Ora invece parliamo di un vero crypto exchange, molto grande, uno dei più grandi del mondo, si chiama Binance, probabilmente lo conoscerete, ebbene, un'investigazione di Foro4Media ha scoperto che c'è un leak su GitHub che contiene una marea di dati sensibili di Binance, password interna e soprattutto, che è rimasto appunto liberamente scaricabile su GitHub per mesi. E Binance stessa poi ha richiesto a GitHub, ha fatto una cosiddetta takedown notice, per far appunto togliere dal repo di chi l'aveva leakato questi file, ecco, e farli cancellare fondamentalmente. Non vado a vedervi il report di Foro4Media, ma un articolo di Cointelegraph, che è un magazine che parla appunto di criptovalute, che riassume un po' l'investigazione di Foro4Media, e dice Binance si è, insomma, rifiutata di considerare questo leak come fortemente sensibile, ma ha detto che il codice e le password interne che sono esposte su GitHub per mesi riportano comunque a un rischio assolutamente banale, non è un rischio alto. Perché? Perché tutti questi dati sono obsoleti, non riflettono l'attuale stato della piattaforma. Ci sono anche informazioni tecniche, ci sono anche informazioni su come Binance gestisce la multifactor authentication, però dice tutto questo non ha più attualità, ecco. Ora si sa che Binance ha richiesto a GitHub di andare a togliere, andare a rimuovere tutti questi file, c'è una takedown request del 24 gennaio, la potete anche trovare sul repo di MCA di GitHub, eccola qua, si vede anche chi è, chi era l'account GitHub che conteneva questi file, si chiama termf, e quindi la takedown notice è rivolta proprio a questo account. Prosegue il Cointagraph dicendo che un portavoce di Binance ha detto appunto che queste informazioni sono assolutamente vecchie, non riflettono quello che c'è attualmente in produzione, quindi c'è un rischio veramente basso per la sicurezza degli utenti o degli asset della piattaforma. Addirittura dice che queste informazioni sono così vecchie che sarebbero inutilizzabili da qualunque attore malizioso di terza parte. Però c'è un problema, perché la nota, la takedown request di Binance a GitHub, in realtà specifica molte volte che queste informazioni sono codice interno del cliente appunto, quindi di Binance, e che rappresentano un rischio significativo per Binance e per i suoi clienti, oltre a un rischio anche per le finanze di Binance e gli utenti. Insomma è un po' strano che da una parte pubblicamente si dica che queste informazioni sono vecchie, non hanno nessuna attinenza con quello che c'è in produzione, però nella nota a GitHub si fa attenzionare il fatto che potrebbero essere gravemente a rischio i dati e le posizioni finanziarie di Binance e dei suoi utenti. Però Cointagraph ha provato a contattare Binance per chiedere ulteriori approfondimenti, non ci sono state risposte per ora. E passiamo ora a FTX, vi ricordate FTX, vero? Spero di sì. Ora FTX è stato uno dei più grandi exchange di creditovalute al mondo, ora non c'è più perché a seguito delle truffe che si sono scoperte, perpetrate dall'allora CEO Sam Bankman-Fried, che ora è stato tra l'altro condannato, ecco, è crollato e con un buco, con un debito verso i propri investitori di miliardi di dollari. E infatti la notizia di questi giorni è che nell'ultima, insomma, udienza davanti alla corte, un avvocato di FTX che si chiama Andrew Dietrich ha detto che la compagnia vuole iniziare un processo di refund, quindi di provare a ripagare tutti quelli che hanno fatto dei claim per aver perso il proprio denaro nel crollo della compagnia, e dice che FTX appunto ha abbastanza fondi da permettersi di ripagare tutti i suoi vecchi clienti. Il valore che sarà ripagato ai clienti sarà quello del novembre 2022, cioè quello l'ultimo prima del crollo, ecco, di FTX, quando esattamente la piattaforma aveva fatto poi, aveva notificato gli atti per la bancarotta. Dice l'avvocato che vuole far sapere alla corte e a tutti gli stakeholder di questa compagnia che questo non è un'azione garantita, ma è un obiettivo, quindi speriamo anche che sia un obiettivo fortemente perseguito, ma dice che hanno una strategia, hanno una strategia per raggiungere questo obiettivo, che vuol dire naturalmente cercare di capire tra tutte le migliaia di claim che hanno ricevuto quali sono quelle veritiere, insomma, e poi avviare la procedura appunto per fare questi refund ai propri clienti. Afferma poi Dietrich che non c'è nessun piano per rimettere in piede la compagnia, per fare un reboot di questo exchange, quindi FTX non tornerà in vita. C'è infine, nell'articolo che trovo su The Verge, un paio di cifre, sono 36.000 le claim, quindi le persone che hanno contattato FTX per far si dare i soldi, e il valore totale dei denari che FTX dovrebbe ridare è di circa 16 miliardi di dollari. Se non vi ricordate tutta la vicenda che riguarda FTX e SEM Bankman Friday, cercherò di mettervi, se siete su YouTube da qualche parte, il link all'episodio del podcastone in cui ho raccontato appunto la caduta di FTX e del suo ex CEO Bankman Friday. E in ultimo stiamo in Europa perché trovo una news su Bleeping Computer in cui si parla di un sequestro record di 50.000 Bitcoin da un sito che adesso è chiuso, è defunto. La polizia in Sassonia ha sequestrato 50.000 Bitcoin dagli ex operatori del sito pirata movie2k.to, o .to, madonna quanto odio il dominio .to, non so mai come pronunciarlo, .to, .to, dovrei pronunciarlo così, movie2k.to, insomma era naturalmente il sito pirata dove trovare link a film e serie tv piratate. E quindi 50.000 Bitcoin, sequestrati come? Attraverso un deposito volontario su un wallet controllato dallo Stato. E questo è naturalmente un sequestro record e corrisponde a circa 2 miliardi di euro. E' una roba ovviamente notevolissima. Ecco, si parla un po' di che cos'era movie2k, che è una piattaforma che ha operato tra il 2008 e il 2013, dice in una zona grigia legale, ma mi sa che è più nera che grigia, comunque forniva link a serie tv e film in inglese e in tedesco, il link a streaming o a download, ma non faceva hosting di questo materiale coperto da copyright, forniva semplicemente il link. Poi questo sito è stato chiuso, è stato tirato giù a maggio del 2013, naturalmente per una lamentela delle MPA, che sappiamo era molto attenta a questo tipo di siti. Poi con il supporto di esperti dell'FBI, le autorità in Germania hanno investigato l'identità di questi operatori dietro questa piattaforma e hanno scoperto che si trattava di un quarantenne tedesco e di un trentasettenne polacco. A questo punto, quando si sono visti e scoperti, uno dei due sospettati ha trasferito volontariamente 50.000 Bitcoin al Federal Criminal Police Office, BKA, polizia federale tedesca, e quindi rifornendo le casse di questo ente governativo di 2 miliardi di euro. Quindi questa cifra si pensa sia stata acquisita dai profitti fatte attraverso le operazioni di Movie2K, come per esempio l'advertising, naturalmente, ma anche le subscription a pagamento. E si sa che i primi exchange tra la valuta reale e le criptovalute erano avvenute intorno al 2012. La polizia dice che gli accusati hanno volontariamente trasferito i fondi sul loro wallet, e comunque l'utilizzo finale di questo grande ammontare è ancora un po' da decidere. Vedremo come dovranno utilizzare questo Bitcoin. Che finalmente, ecco, abbiamo trovato un buon uso per i Bitcoin, sequestrarli e usarli per il bene pubblico. Potrebbe non essere male. Torniamo a parlare di cyber security. Siamo in Canada. Il Global Affairs Canada è l'istituzione governativa che controlla i scambi commerciali con l'estero o le attività diplomatiche, quindi ha parecchie, diciamo, informazioni sensibili al suo interno, sui suoi sistemi, nella sua network. Ebbene, le autorità canadesi hanno scoperto un data breach che si è prolungato parecchio, perché è andato avanti da dicembre fino appunto a qualche giorno fa. Poi, una volta che hanno scoperto, insomma, questo, il Global Affairs Canada ha contattato i propri dipendenti chiedendogli di smettere con il remote work, perché proprio attraverso i sistemi usati per il remote working, quindi attraverso le VPN, questa attività, ecco, criminosa, era riuscita a intercettare dati, anche autenticazioni, e poi risalire ai dischi interni all'azienda oppure all'email di alcuni suoi dipendenti. CBC News ha raccolto la testimonianza di vari impiegati di Global Affairs, ad alcuni appunto è stato detto di smettere di lavorare da remoto fin da mercoledì, sono circolate altre mail in cui si dice che i sistemi interni sono risultati vulnerabili dal 20 dicembre al 24 gennaio e che il colpevole di questa intromissione, diciamo, di questa breach è stata la VPN, la VPN usata dallo staff globale per accedere ai quartier generali di Global Affairs a Ottawa. Non ci sono ulteriori informazioni sullo scope di questo data breach, si parla di appunto traffico mail e file su alcuni dischi personali, e naturalmente si parla anche di alcune informazioni sensibili, oltre che dati, insomma, sui calendari e sulle email, sui draft di messaggi diplomatici, che anche se sono criptati, quelli che vengono poi scambiati effettivamente, in realtà poi le bozze si possono trovare, si può risalire ad alcuni draft, e immaginate quanto può essere sensibile appunto per un attaccante magari controllato da una potenza straniera, ecco, risalire a messaggi, ecco, tra diplomatici o comunque tra stati che riguardano transazioni oppure accordi commerciali, insomma, è abbastanza grave questo tipo di compromissione in un'istituzione critica come Global Affairs Canada. La cosa interessante qua, tra l'altro, è che si parla di un breach alla VPN, non è meglio specificato né il tipo di software né il tipo di breach, ma se vi ricordate, noi abbiamo parlato proprio qualche giorno fa, a gennaio, di un, insomma, di breach importanti che si sono scoperti su una delle VPN più diffuse al mondo, anche nelle istituzioni, che è quella di Ivanti. Non è direttamente menzionata e non ho trovato online specifiche menzioni a Ivanti sul breach a Global Affairs Canada, però diciamo che mettendo un po' insieme le due cose, qualche sospetto può venire. E a proposito proprio di Ivanti, le patch per quelle Zero Days della VPN che vi avevo poi detto a gennaio sono infine state rilasciate, sapete che Ivanti ha questa politica di finestre di rilascio di patch da cui non si vuole distaccare, insomma, non vuole rilasciare patch al di fuori della loro finestra di rilascio, tra l'altro aveva anche un po' ritardate alcune patch. Beh, rilasciando le patch per le due più grandi vulnerabilità, quelle a Connect Secure e Policy Secure Gateway, ha scoperto altre due Zero Days, quindi ci sono altre patch che dovranno essere rilasciate. Nel frattempo hanno rilasciato un'altra mitigazione da applicare ai router, ai device che contengono software rivanti, e tra l'altro hanno anche consigliato agli amministratori, ma proprio per essere totalmente sicuri in un'abbondanza di cautela, dice, di fare anche un factory reset ai device, giusto per così, converrebbe farlo. Vi segnalo infine quella che è stata definita la madre di tutti i bridge. È un file, sono file contenenti 26 milioni di record tra utenti e password, che sono stati ritrovati dai ricercatori di Cyber Security, Bob Diacenco e poi tutto il suo team in Cyber News, che hanno scoperto appunto queste istanze che contengono 12 terabyte di dati degli utenti e l'hanno appunto chiamato la madre di tutti i bridge. Hanno anche pubblicato dei motori di ricerca per cercare se i vostri dati sono presenti in questo bridge. Naturalmente se usate servizi come Have I Been Pwned sarete stati notificati della presenza eventuale di vostri dati in questo bridge, che contiene non solo cose che già si sapevano, insomma, dati provenienti da bridge che erano già stati scoperti, ma anche dati nuovi, che non è usuale. Tipicamente quando si scoprono dei leak di questo tipo contengono dati che già erano circolati, di cui già si era conoscenza. In questo caso invece ci sono una marea di dati nuovi e questo è grave, insomma, rende la cosa ancora più grave. Tra i siti più presenti, con record più presenti in questo grosso file, ci sono LinkedIn, Twitter, Weibo e Tencent. Ecco, ma c'è anche roba in italiano, visto Luxottica passare tra i nomi degli account presenti in questo mega bridge. Quindi la madre di tutti i bridge è per iniziare in frizzantezza anche febbraio. Allora, siccome vi ho dato notizie spiacevoli, tristi, ora nei link vi do un paio di link invece frizzanti e divertenti. Il primo è un giochino che potrebbe prendervi tranquillamente tutta la giornata. Si chiama Infinite Craft, lo trovate su nil.fun.infinitecraft e praticamente contiene degli elementi. Avete degli elementi, inizialmente avete i quattro elementi primari lì su una sidebar a destra. Li potete trascinare a sinistra e li potete combinare. Per esempio avete acqua e fuoco, se voi combinate acqua e fuoco ottenete vapore. E il vapore poi viene aggiunto alla lista degli elementi che potete utilizzare. Quindi per esempio se con il vapore ci combino il vento, ottengo le nuvole. E se con le nuvole ci combino l'acqua, ottengo la pioggia. Insomma, avete capito, se combino la pioggia alla terra, ottengo le piante. Insomma, potete continuare all'infinito, facendo anche crescere le vostre piante in fiori. Insomma, sbizzarritevi, vedete se riuscite a scoprire tutti gli elementi di Infinite Craft, che spero non sia davvero Infinite, però io alla fine non l'ho ancora raggiunta. Insomma, secondo me potrebbe essere qualcosa che vi ruba più tempo di quello che dovrebbe. Infinite Craft su nil.fun. E il secondo link invece è un client per Spotify, che vi permette di ascoltare la musica su Spotify, praticamente come se aveste un account premium, quindi senza pubblicità alle cose, in maniera gratuita. Si chiama Spotube, è open source, lo trovate su YouTube. E in pratica cosa fa? Sfrutta l'API di Spotify per darvi tutta la lista dei brani, degli artisti e dei dischi, ma poi il brano vero e proprio ve lo farà ascoltare scaricandolo da YouTube. Quindi ecco perché si chiama Spotube, no? Cioè combina l'API di Spotify e i dati invece che stanno su YouTube. E quindi in questo modo vi consente di poter ascoltare tutto questo database musicale, prendendolo però da YouTube. Questo è il sito web, insomma, potete scaricare il client sulla vostra piattaforma, su Windows, su Mac, quello che volete, e potete anche guardare un po' il codice essendo open source. Devo dire che non è male anche l'interfaccia, richiama molto Spotify, però è anche minimale e simpatica, insomma. Spotube, lo trovate su spotube.netlify.app oppure su GitHub, vedete anche il codice sorgente. Ed ho finito qui, grazie per aver seguito anche questa puntatona. Informazioni di servizio, noi non ci rivedremo fino a mercoledì prossimo, almeno, perché domani parto, vado a Bruxelles, c'è il Fosden, ve l'avevo detto, insomma tra l'altro se siete in zona ci possiamo anche beccare e salutare, e poi rientrerò in Italia lunedì, martedì però sarò impegnato a Milano negli studi di Continuous Delivery a fare l'altro podcast, quindi fino a mercoledì sicuramente non avrò modo di fare buongiornissimo. Lo so che vi mancherò, però la vita va anche così, è fatta anche di tristezze, insomma. Però spero con questi piccoli format ecco di dare anche qualche gioia. Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito anche su YouTube, che ci hanno fatto scavallare i mille follower, sono molto contento. Non so cosa fanno in questo caso i veri YouTuber, non so, dei video celebrativi, uhuh, non lo so, festeggerò, berrò alla vostra salute. Vabbè, non sono capace. Grazie, alla prossima, ciao.